Bending Spoons ha acquistato WeTransfer per quella che sembra essere una cifra intorno ai 700 milioni di euro. Questo ormai è diventato un appuntamento ricorrente in cui vi parlo delle acquisizioni di questa azienda italiana che ormai sta diventando iconica anche all'estero. Siamo partiti nel 2022 con Evernote, di recente abbiamo parlato dell'acquisizione di StreamYard. Come potete vedere c'è stata un'escalation per quanto riguarda la notorietà dei brand acquisiti da Bending Spoons, anche del valore, probabilmente ci sono state anche tante acquisizioni più piccole nel mezzo, sempre più frequenti, però queste sono state quelle più iconiche. In mezzo c'è stato Meetup, c'è stata un'altra piattaforma molto interessante chiamata ISU, o ISU, non so come la vogliono pronunciare, però ecco questi sono stati i tre milestone negli ultimi anni per Bending Spoons. Valgono tante delle riflessioni già fatte nel video precedente dove abbiamo parlato di StreamYard, si stanno comportando molto come il private equity delle scale up ed è un concetto molto interessante che aiuta anche a dare liquidità al mercato. Questa acquisizione di WeTransfer ne è un'ulteriore riprova se vogliamo, perché la stessa WeTransfer aveva provato a fare un IPO nel 2022, poi scartata per questioni di volatilità di mercato e invece adesso arriva Bending Spoons che offre questa come alternativa. Il rumor dei 700 milioni di euro penso arrivi oltre che da fonti magari interne di Milano Finanza, ma anche dal fatto che la stessa WeTransfer si voleva quotare all'epoca per questa cifra. Non so, sinceramente mi sembra una cifra un po' alta per gli standard di Bending Spoons più che altro. Diciamo che ultimamente ci hanno abituato a lavorare solo su degli affari che sembrano veramente dei no-brainer, quindi mi aspetterei una negoziazione ancora più ardua, però è anche vero che abbiamo pochissimi dettagli sia sulla modalità dell'operazione sia su WeTransfer stessa. Non sappiamo quanti di questi soldi sono stati dati di cash, quanti in share, che tipo di accordi ci sono, se ci sono dei bonus legati alle performance, quindi è veramente pochissimo quello che sappiamo, non ha neanche tanto senso metterci qui a speculare su questa parte specifica. Quello che si vede dal sito di WeTransfer è che nel 2021 loro hanno raggiunto 100 milioni di revenue e circa 300 dipendenti, quindi sicuramente un momento di esplosione, probabilmente dovuto anche all'effetto Covid. Mi sembra di capire che dal 2021 ad oggi il revenue siano un po' scese, c'è chi parla di 50, 75 milioni, alcuni addirittura 25, quindi è un po' difficile da stimare. Se non sbaglio la figura più aggiornata per quanto riguarda il numero di clienti paganti, che è stata rilasciata da WeTransfer, è quella di mezzo milione, che effettivamente potrebbe farci pensare a delle revenue più basse rispetto ai 100 milioni annunciati nel 2021, perché di fatto i loro piani, come possiamo vedere qui, i loro piani a pagamento, oltre a quello chiaramente gratuito, ma sono da 10 euro al mese per persona o 19 euro al mese per persona, quando fatti annualmente, questo è il prezzo mensile. Poi ovviamente ci saranno anche dei clienti enterprise, ci saranno altre formule per dare soldi a WeTransfer, guadagnano anche dalle ads, altro tema che magari toccheremo al volo, però penso che questa sia la loro principale fonte di guadagno e questa è un po' la situazione al momento. Quindi io partirei proprio da qui per ragionare su questa acquisizione di Depending Spoons. Abbiamo visto quello che hanno fatto con Evernote, hanno preso un prodotto che aveva tanti problemi da un punto di vista tecnico, tanto technical debt, dovevano veramente rifare completamente le basi del codice e hanno lavorato poi sull'aumento dei prezzi, consolidare gli esistenti utenti che non si staccano da Evernote e portarsi subito a un buon livello di Manfield Recording Revenue che gli permettesse di dire, ok, noi tra 15 anni ripaghiamo i soldi che abbiamo preso in prestito per comprare quest'app. Penso che il blueprint in questo caso sia molto simile. Rispetto a Streamyard, che dal mio punto di vista di utente ha dei prezzi già molto alti, i prezzi di WeTransfer mi sembrano abbastanza bassi. Cioè, specie il piano premium, quindi quello più avanzato, per 23 euro al mese io non ho nessun limite di storage, non ho nessun limite sulla dimensione dei file e stiamo parlando di un prodotto usato anche da grandissimi professionisti. Io adesso sono diventato un utente pro di WeTransfer perché ogni giorno veramente ricevo file o invio file tramite WeTransfer. Non ne sono un grande fan dal punto di vista di usabilità, quindi spero anche che Depending Spoons lavori su questo. e effettivamente mi aspetterei un prodotto che anche un Aurea così premium vada a costare di più. Quindi secondo me c'è margine lì per lavorare sul pricing, chiaramente magari lasciandone uno di entrata un po' più tranquillo, però poi andando a lavorare di più su clienti che magari sono professionisti di alto livello e che vogliono mostrarsi in una certa maniera, vogliono usare WeTransfer perché ha un certo brand. Quindi vediamo, questa è una prima riflessione che mi viene da fare. La seconda riflessione si collega a quanto dicevo, cioè il fatto che per quanto WeTransfer abbia un ottimo look, sia molto interessante come prodotto. Molto spesso ci sono dei problemi, almeno secondo me, di usabilità o dei dark pattern che non gradisco, che pensano di doverti registrare al tool per scaricare file, ma non si capisce bene. Quindi secondo me Vending Spoonsfer ha un ottimo lavoro a semplificare tutto questo processo, sono curioso di vedere come diventerà alla fine questa piattaforma. C'era una parte strana dell'accordo legata a un minimo che verrà dato in beneficenza per supportare artisti, non lo so. Da quello che ho visto WeTransfer è una B Corp, forse sono degli impegni necessari per continuare ad avere questa certificazione, non lo so. L'altro aspetto che porta revenue a WeTransfer sono le pubblicità. Come vedete in questo caso non c'è una pubblicità vera e propria, ma mi sembra più un qualcosa legato al supportiamo gli artisti, facciamo qualcosa per loro. Ah, tra l'altro guardate qui, una promo del 30% di sconto per l'estate. Magari riaggiornando la pagina riusciamo a vedere qualcosa di diverso. In questo caso questa è una pubblicità. Bene, questa pubblicità non sta funzionando. Penso che sia proprio una pubblicità di WeTransfer a questo punto, però non mi riporta da nessuna parte. Quindi un'altra cosa che potrà sistemare sicuramente Bending Spoons. In generale io credo che con una piattaforma che ha 80 milioni di utenti attivi, mi sembra che quello sia la cifra che hanno condiviso, è sempre un peccato non sfruttare lo spazio di real estate per fare pubblicità o per vendere spazi pubblicitari, ecco detto meglio. Dall'altra parte da marketer che ha acquistato degli spazi su piattaforme di questo tipo, ma non parlo solo di WeTransfer, parlo anche di piattaforme una scala più grande, tipo Reddit, oppure mi viene in mente Substack. Sono tutte piattaforme che io ho testato e devo dire che non ho mai visto lo stesso livello di efficienza che c'è su Google, Meta, TikTok. Cioè è veramente un altro livello. Quindi i media buyer che vanno a acquisire spazio su queste piattaforme lo fanno magari per campagne molto specifiche oppure sono aziende che veramente hanno tantissimi soldi da investire, vogliono fare un esperimento. Però in generale non so quanto sia sostenibile e quanto possa essere il futuro di WeTransfer. Sicuramente va sfruttato perché hai il 99% della tua utenza che sarà utente gratuito e quindi trovi un modo per monetizzarla benvenga. Anzi, spero che trovi in una quadra che effettivamente funzioni. L'altra cosa interessante è che c'è tantissimo real estate sulla pagina che non è dedicato al download che puoi offrire in pubblicità e quindi quello sicuramente aiuta ad aumentare il prezzo, aiuta a aumentare il CPM. Un altro tema interessante che non ho citato, ne parleremo brevemente, ma è questa idea di WeTransfer di dare la possibilità ai creator di guadagnare vendendo tramite la loro piattaforma. Questa chiaramente è un po' una risposta a quelle piattaforme stile Gumroad che ti permettono di caricare un file sulla loro piattaforma e poi di venderlo dietro a un prezzo. È un tipo di prodotto che è stato super richiesto durante il Covid ma secondo me continua ad essere molto interessante, molto utile, super intuitivo. Quindi in generale direi che è un qualcosa che può essere interessante per WeTransfer da sviluppare, che si collega anche alla piattaforma di cui parlavamo prima. Certo, magari non facilissimo da monetizzare perché qui il gioco diventa molto sulle commissioni, cioè ce l'ha fatto vedere Patreon. Con i creator sembra che vince chi riesce a prendersi la percentuale più bassa possibile sui tuoi guadagni. Patreon è un altro concorrente chiaramente per questo tipo di prodotti, quindi vediamo. I margini appunto non sono tantissimi, però potrebbe essere un modo per portare persone all'interno dell'ecosistema di WeTransfer e poi fargli pagare altri prodotti o comunque per cercare di non perdere market share in generale. Detto questo, ormai penso che quando si parla di pending spoons è un tema ricorrente, esce fuori anche sempre al tablerone podcast che penso tra un po' ritornerà, quindi se ci seguite anche con Giorgio, con Mr. Rip, poi rimanete sintonizzati. È la sinergia tra prodotti. Mi sembra che più si vada avanti, più questa idea della sinergia di prodotti dietro pending spoons non ci sia. Loro vogliono fare degli affari con aziende interessanti che comprano a un prezzo secondo loro aggressivo, secondo loro ottimo e che possono rimettere in piedi, possono mettere su questa macchina da MRR continua che macina e macina. Quindi assolutamente mi sembra un ottimo piano, sta funzionando, però sai c'è sempre quell'idea del vedo questi pezzettini che andrebbero così bene insieme e per esempio la piattaforma che citavo forse all'inizio, ISU, che è stata acquistata di recente da parte di pending spoons, offre un modo di vendere o di, diciamo, mostrare prodotti digitali, in particolare ho visto dei PDF in formato tipo photobook, album online oppure la stessa Streamyard che produce dei file video molto pesanti che magari uno vorrebbe condividere con altri, insomma sono tutti prodotti che in un certo senso si possono collegare, possono andare a lavorare insieme con WeTransfer da un punto di vista esterno per l'utente, magari aggiungendo delle funzioni per collegare questi prodotti proprio lato utente, ma cosa ancora più interessante direi nel back-end se loro hanno fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione sulla compressione dei file video su Streamyard lo possono applicare su WeTransfer o magari viceversa, no? se WeTransfer ha fatto un ottimo lavoro nella gestione dei dati e del peso dei file. Sono cose complicate che non si possono capire senza guardare alla codebase e io non capirei niente uguale, quindi sicuramente i loro sviluppatori sono quelli che stanno ragionando su questi aspetti. Mi verrebbe difficile pensare che non ci sia un modo per loro di trarre vantaggio o per Streamyard da WeTransfer o viceversa, o forse tutti e due, anzi probabilmente tutti e due, quindi questo anche aspetto super super importante, basti pensare che su una piattaforma come WeTransfer che osterà petabyte e petabyte di file, ogni momento migliorare di un 5-10% la compressione può veramente fare la differenza, perché ecco, chiaramente il problema di un software come WeTransfer qual è? è che tu hai tantissimi utenti gratuiti che ostano i tuoi, i loro file sui tuoi server, quello per te è un costo potenzialmente enorme ed è anche per questo che più passa il tempo più devono ridurre la quantità di giga che puoi ostare o il numero di giorni per cui li puoi ostare perché sì, sicuramente comprare gigabyte diventa sempre più economico, gli hard drive costano sempre di meno, gli SSD costano sempre di meno, sicuramente acquistare, tra virgolette, dei giga diventa sempre più economico, il costo degli hard drive continua a scendere, anche se penso ormai si stia raggiungendo un plateau perché più di così diventa difficile, i prezzi degli SSD allora continuano a scendere, eccetera, eccetera, però la quantità di file che le persone si scambiano aumenta in maniera molto più rapida, quindi bisogna stare attenti a contenere i costi, io ho visto che c'è anche tanta competizione che si sta accendendo rispetto a WeTransfer, una sicuramente è Swiss Transfer che mi è capitato di vedere sempre più spesso, mi sembra che offri un piano gratuito un po' più generoso, qua si parla di 50 giga gratuiti, hanno anche questa idea della Svizzera che magari si ricollega sempre abbastanza bene al tema della privacy, insomma, mi sembra un prodotto ben posizionato, vediamo come riusciranno a sfruttarlo, e poi c'è sicuramente Google Drive, OneDrive, che sono dei prodotti con una scala incredibilmente maggiore, quindi possono essere anche più aggressivi sul pricing, anche perché ti vendono in bundle tutto quello che c'è dietro il mondo di Google, dietro il mondo di Microsoft, e so che non sono concorrenti diretti, ma la verità è che io in alternativa a WeTransfer posso usare Google Drive, basta saperlo usare, WeTransfer sicuramente è più immediato, è più facile, però ecco, anche quelle sono alternative da considerare quando guardiamo a dov'è che WeTransfer sta potenzialmente perdendo utenti, perdendo soldi, lì direi. Quindi, queste sono un po' le riflessioni sull'acquisizione da parte di Bending Spoons di WeTransfer, spero che per voi sia stato un video interessante, come dicevo sono super curioso di sapere nei commenti cosa ne pensate, e magari poi diventerà anche un tema del prossimo tablerone in cui discuteremo un po' più nel dettaglio che cosa voler dire. In generale, molto orgoglioso di vedere una azienda italiana che fa un'acquisizione di questo tipo, acquisizione che finisce nei titoli di grandissimi giornali internazionali, ne ha parlato Reuters, ne ha parlato TechCrunch, quindi è sempre veramente bellissimo vedere questi titoli che ci parlano dell'italiana Bending Spoons che acquisisce aziende di questo tipo, penso che faccia veramente bene al nostro ecosistema, che ancora non è visto benissimo da parte dei DVC, però questo potrebbe essere un primo passo.